Io lo farò nei prossimi giorni, la metà dei miei coetanei non sono ancora vaccinati e quindi io rispetto la fila come tutti gli altri. Io la prima dose l'avrei potuto avere se non fossi stato in tribunale, un lunedì mattina a Cuneo, perché purtroppo passo parecchie delle mie giornate nei tribunali e il vaccino non è un legittimo impedimento. E quindi ho dovuto rinviare, mi fa piacere che a sinistra abbiano così tanta ansia sul mio stato di salute che toccando ferro è buono, non sono un soggetto a rischio. I leader politici devono fare di tutto perché chi vuole vaccinarsi possa vaccinarsi, non per fare la fotogallery del vaccino.